La mostra fotografica Trieste Audace è un tributo corale appassionato alla bellezza acquatile di Trieste che fino al 29 luglio farà bella mostra di sé nel salone delle poste centrali di Piazza Vittorio Veneto. Ci occupiamo prevalentemente di fotografie urbane, quindi le poste centrali di Trieste sono uno spazio urbano per eccellenza. In questo senso abbiamo voluto portare la fotografia qui, proprio per condividere anche con gli utenti delle poste centrali la fotografia. In questo caso fotografie di Trieste che raccontano la città e quindi creare questo momento anche di nutrimento culturale anche per le persone che sono qui. Infatti, un centinaio di fotografie firmate da 69 artisti del CLIC racconteranno una Trieste inedita attraverso sguardi originali dedicati ad un'intimità urbana fatta di ricchezza e diversità. In questo percorso identitario è quasi inevitabile che sia il mare ad avere il ruolo indiscusso del protagonista. Si parte dai bagni del lungomare, scenario tanto caro alle abitudini dei triestini, per passare poi agli scaffi affusolati delle barche adagiati pigramente lungo i canali. Seguono poi la cultura della vela e della barcolana, le storiche frequentazioni dei mercantili e quelle più recenti delle navi da crociera. Con un mare talvolta violento che urla e uno più contemplativo che sussurra, con un mare in cui l'orizzonte si confonde col blu del cielo e uno dove i riflessi diventano quasi distorsioni psichedeliche della realtà. E' bene sapere che la mostra è solo un gustoso antipasto del Festival Trieste Photo Days, giunto alla sua decima edizione, che vi dà appuntamento dal 27 al 29 ottobre nel Palazzo delle Poste e in molte altre serie espositive della città. Grazie mille! Grazie.